ciao ciao ci vuole perché avete visto il titolo preti medici banchieri maestri e professori che cinquina allora cominciamo dai preti allora secondo rispettiamo le fedi però siccome la fede la religione in cui sono nato quella cattolica io cito la mia allora secondo i preti io e te siamo nati col peccato originale quindi già partiamo peccato originale passiamo subito ai banchieri per i banchieri siamo nati col debito pubblico ognuno di noi ha una quota di debito pubblico sulle sue spalle per quello che molti camminano curvi perché c'è il peccato originale il debito pubblico e te credo io non cammino poi entrano in scena i medici che danno dei consigli esempio il medico che avevo io di famiglia quando a 14 anni decisi di diventare io non contro tutti ma io a favore degli animali vegetariani mi disse morirai quindi lì il medico è andato giù d'oro abbiamo altre due categorie i maestri professori allora sì i maestri mi pare che alle elementari si chiama maestro poi crescendo professore quindi che cosa ti dicono i maestri e professori devi andare a scuola c'è la scuola dell'obbligo ok attenzione allora uno nasce col debito pubblico il peccato originale è la scuola dell'obbligo allora si guarda in giro no vado al medico gli fa tu se uno vede un medico che fuma che beve alcol che mangia la carne secondo me la carne non è non è adatta come alimento per gli umani quindi questo video è un invito in che rapporto sei tu con i preti con i medici coi banchieri coi maestri con i professori o in che rapporto sei stato dalla nascita dalla nascita tu dalla nascita come sei messo ho visto dei giornali che ogni tanto giornali no è vero non l'ho visto già ho visto su internet che parlano del di norimberga dove ci fu un processo dove dicevano che a nessuno può essere iniettato qualcosa contro la sua volontà quindi noi siamo nella democrazia dove uno decide però la sua decisione non deve danneggiare gli altri la sua decisione sembra io quando vedo cosa offre la medicina faccio delle scelte certe cose le scelgo altre non le scelgo sono un essere senziente ma queste imposizioni per cui io sono nato sono figlio di dio ma sono nato col peccato originale e se non accetto anzi io tecnicamente sono stato salvato dal peccato originale perché mi ha battezzato questo è quello che mi hanno detto e poi devo accettare la volontà di dio espressa attraverso i suoi rappresentanti devo accettare cos'è il debito pubblico senza capire verso chi è tante cose sono tante cose cioè io ho studiato un po' di economia per conto mio e ho scoperto che lo stato emette i buoni del tesoro per cui tu cittadino compri i buoni del tesoro io ti do una percentuale e però quando allo stato serve liquidi la zecca si chiamava zecca di stato stampa i soldi questo non avviene più da quando c'è l'euro perché l'italia non stampa euro sta li stampano all'estero e poi vengono portati in italia c'è tutto un procedimento chiamato sovranità monetaria ma tutte queste cose qui il rapporto che abbiamo noi con i medici i banchieri i maestri i preti i professori riguardano ognuno di noi anzi io potrei fare un video brevissimo impara a conosce in che rapporto sa in che rapporto vuoi essere con i preti i medici i banchieri i maestri i professori finito ho lasciato fuori dal giro i parenti perché poi arrivano anche quelli eh madre padre zii noni ho letto degli articoli conosco persone che lavorano nel campo della psichiatria nel campo della psicologia dove mi hanno detto oramai a livello statistico che la maggior parte delle molestie sessuali in piccola parte sui bambini ma in grande eccessiva parte sulle bambine avviene in famiglia fratello maggiore il cugino lo zio il nonno o il padre stesso molestie sessuali ecco come si fa no avevo letto una cosa a napoli mi pare dove questa bambina che tutti sapevano che era a ricevere la violenza sessuale ma stessuali molto carina cinque sei anni così poi la buttata giù dal quarto piano perché evidentemente quella voleva parlare ho fatto un volo non si è mai capito sto volo chi chi l'ha chi l'ha creato il volo no quindi noi dobbiamo imparare che viviamo in una società abbiamo dei diritti abbiamo dei doveri ma in che rapporto ci mettiamo se uno viene sgridato a casa poi bocciato a scuola ci sarà un nesso se uno è trattato male a casa ed è trattato male a scuola dove va allora che cosa produce aggressività aggressività gratteri che è un magistrato di catanzaro calabrese ha detto che è andato a vedere dei documenti di quante violenze sessuali omicidi violenza sono state fatte dalle truppe piemontesi quando hanno invaso il regno delle due sicilie allora attenzione io non sono né contro i piemontesi perché ho amici a torino perché uno non è allora io cosa mi devo identificare con quello che ha fatto gli italiani 50 100 o 200 anni fa 200 non esisteva l'idea d'italia non c'era l'impero romano nel senso molti si identificano a scuola dicevano che noi discendiamo dall'impero romano però questa invasione del sud militare dice ha creato crimini peggiori delle fosse ardiatine o mentre le fosse ardiatine nazisti ha fucilato gente innocente come rappresaglia giù dice lui documenti storici dimostrano che l'invasione del sud da parte dei piemontesi dell'esercito sabaudo piemontese l'esercito reale della famiglia reale Savoia hanno commesso un sacco di reati ma nei libri di storia non ci sono quindi bisogna andare dai professori professore ma come mai non c'è allora questo gratteri che è uno che esiste mentre io sto parlando ha fatto questa denuncia io non ho niente contro i preti niente contro i medici niente contro i banchieri niente contro i maestri assolutamente niente contro i professori però che cosa voglio onestà sincerità coerenza la storia non va raccontata come vuole qualcuno chiaro che se siamo in un regime monarchico il regno dei cieli è dentro di noi no? Cristo re ma Gesù Cristo sembrava tutto meno che un re quando mi fecero la cresima mi hanno detto da adesso sei un soldato di Cristo ma qual è il soldato di Cristo? mi pare che San Pietro aveva una spada Gesù gli ha detto di stare calmo no? San Pietro no? quindi che cosa è successo nel nome di Dio nel nome dello Stato nel nome della medicina ho parlato dei medici che avevano qualche anno in cui mi dicevano che ancora fino a qualche decennio fa facevano l'elettroshock ancora fino a qualche decennio fa lo trovate su internet se un bambino era un po' esuberante lo mettevano in manicomio anche il bambino o in centri di assistenza per bambini handicapati ma l'unico antico è che era un po' vivace quindi io auguro a me e a te di incontrare preti onesti banchieri onesti medici onesti maestri onesti professori onesti se tu sei in uno di queste cinque categorie dai il buon esempio dai il buon esempio perché ogni prete crea una situazione reale la parola italiana egregio egregio vuol dire fuori dal gregge non mi è mai andata giù che il prete si definisce pastore e io pecora nel senso il gregge questa visione pastorale dove lui si pone lui che era una pecora una volta attenzione perché lui non è nato pastore lui da pecora si trasforma in pastore e tratta male le pecore e sempre io ho fatto anche delle domande quando ero bambino che crescevo ma se esiste il pastore e noi siamo pecore chi sono i cani da guardia? mi hanno detto mi facevano così vai a giocare vai a giocare giocare dove? quindi noi vogliamo un mondo migliore una società migliore tu puoi essere migliore di come sei adesso io posso essere migliore di come sono adesso ma da chi dipende? io dipendo da me tu dipendi da te ognuno dipende da se stesso quindi ecco auguriamo che in questa società che definiamo libera basato su valori costituzionali la costituzione ci siano dei preti onesti dei medici onesti dei banchieri onesti dei maestri onesti e dei professori onesti ecco devo fare una differenza perché molti banchieri confondono banchieri con bancari attenzione il bancario non è uno che lavora in banca e ha uno stipendio c'è una canzone dei gufi un complesso di 50 anni fa che diceva io vado in banca stipendio fisso cioè una volta uno entrava in banca stipendio fisso adesso leggo che molte banche chiudono sedi fanno prepersonalmente perché vogliono fare tutto online il bancario è uno stipendiato che lavora lavora all'interno di una struttura chiamata banca o credito i banchieri sono i capi i capi esempio Tesla ricevete da Morgan un banchiere un aiuto per costruire una torre che radiava gratuitamente l'energia elettrica quello prima gli ha dato i soldi per farla e poi hanno messo tutto a tacere Tesla adesso l'unica cosa che si chiama Tesla Elon Musk che che ha fatto questa automobile elettrica chiamata Tesla riprendendo il nome da questo Tesla andate a cercare perché ho fatto già un video dove parlo di Tesla come ha avuto l'idea che nel vuoto c'è l'energia e come è possibile lui ricevete da suo amico Vivekananda nel 1893 avere l'idea che mentre lo yogi accede all'energia con la meditazione dice voi occidentali potete accedere all'energia che c'è nel vuoto quindi l'energia invisibile che però esiste e produce affetti visibili attraverso la tecnologia questo è Elon Musk un personaggio interessante perché dice che vuole produrre degli automi altezza 1,80 peso 75 kg che fanno tutto ti compri un automa in casa lava sciacqua asciuga come dice cucina guida la macchina e prevedono che aveva meno incidenti stradali l'automa di molti ubriachi stanchi col colpo di sonno o suicidi c'è gente che si suicida sull'autostrada andando a sbattere contro un altro no? la cosa la cosa che uno può temere di più perché è già successo ma l'hanno messo a tacere perché uno aveva lasciato dei documenti delle lettere e che un pilota di un aereo di linea decida di suicidarsi allora in quel caso lì lui si suicida buttandosi nell'oceano però fa fuori l'equipaggio le oster e i passeggeri ecco allora noi auguriamo una vita lunga e serena ai pre ai sacerdoti in generale ai sacerdoti ai maestri ai professori ai medici ai banchieri ricordatevi siete umani come gli altri allora c'è qualcuno che ha detto la frase attenzione ai lupi vestiti agnelli ve la ricordate? allora ve ne dico un altro attenzione alle pecore vestite da pastori allora a lăsă Grazie a tutti.